Alcune volte ti sembra che quando tu giochi con una squadra della seconda divisione devi essere 100 a 0, e non succede. La settimana scorsa Avellino ha vinto a Scafatti, succede questa cosa e dopo alla fine quando tu sei punti a punti comincia a sembrare che sempre è poco. Tu fai una brava di defensa e è poco, tu fai un canestro di tre punti e è poco, che il risultato deve essere per la squadra che gioca in prima divisione sempre. Abbiamo tantissime cose da migliorare, non possiamo giocare con tantissimo rimasto offensivo, ma la squadra nel secondo tempo soprattutto ha intentato difendere con la capacità che noi dobbiamo difendere tutto il campionato. Questo è lo che dobbiamo vedere, se siamo positivi e negativi domani quando guardiamo il video parleremo per continuare in avanti.